Ciao bambini! Bentornati a Bellyville! Un posto così lontano che nessuno sa dove si trova! Ti ricordi di piccoli Bellyers? La piccola Niazma! Il Bobbi Boo! La Pinky Team! E Yam 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 Yam! Io sono Nassi! E oggi parliamo dell'origine del nome di uno dei nostri Bellyers! E chi sarà? Ma tranquilli! Ognuno di voi avrà il suo video! Però ora parliamo solo di uno di voi! Ma ora sarà la Pinky Team! Pinky Team! Però tu mi devi promettere di stare tranquilla! Va bene! Anche se la probabilità che lei sia tranquilla è 1,0005% Vero che tu non vedi l'ora di ascoltare la sua storia! Dai, ti racconto di questa piscina! Lei è la più inquieta! Per un motivo preciso! Il primo giorno cade dal nostro trasportatore e per sua sfortuna sbatte la testa! E le uscivano tantissime stelle! Ma lei, invece di piangere, si mette a ridere! Perché amava le stelle! Ed ecco perché la prima cosa che fa dopo il colpo è saltare! Saltare dalla gioia! E da ora in poi non ha più smesso di saltare e rompere tutto quello che ha davanti! E una bimba super interattiva! Ma che cosa è stato? Un uccellino? Un aereo? E' stato Pinky Twink! Un altro suo superpotere è la super velocità! E qual è il tuo superpotere? Scrivi sotto nei commenti! Metti mi piace! E iscriviti al canale! Ciao! Noi ti salutiamo! Noi ti amo!